ciao amici benvenuti nel mio canale io sono Aaron sono un cucciolino di corgi e qui potete trovare tanti video divertenti che ho fatto insieme ai miei fratellini e sorelline sono per voi bambini se ve li presento lei è Lisa ciao noi abbiamo fatto tanti video di lavoretti creativi che possono fare tutti i bambini per creare degli oggetti o dei giochi molto divertenti ciao io sono Cookie la sorellina con i capelli lunghi mi piace tanto cucinare nella nostra playlist trovate infatti tanti video di ricette che voi bambini potete fare e mangiare lui è Tom a lui piace un sacco leggere e mi ha aiutato a creare la community qui trovate le comunicazioni sugli eventi e potete interagire con noi non abbiamo mica finito qui la mia famiglia è molto numerosa sono ancora Beth fratellino Norman e mia sorellina Milde beh a loro piace fare i monelli e combinare guai non è vero siamo solo un po vivaci e curiosi e ti diverti con noi eh si è vero al canale trovate anche dei video per conoscere la natura e negli short avete tutti dietro le quinte dei nostri video un'altra avventura la trovi anche nel mio libro corri a comprarlo un'altra avventura la trovi anche nel mio libro un'altra avventura la trovi anche nel mio